A quanto pare ci risiamo di nuovo, il mining sta prendendo possesso dei nostri componenti di cui tra poco non ce ne troveremo più eccetera 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 bla 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 Vediamo un attimo com'è la situazione e perché dovremo preoccuparci del fatto che le CPU scompariranno a causa del mining Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Prima di iniziare ragazzi vi ricordo che sono attive le offerte di Primavera su Amazon Proprio in questo momento le stiamo postando sui canali 3 alle offerte quindi in descrizione troverete i canali delle offerte dove potreste acquistare anche delle CPU a prezzo scontato Che magari potrebbero tornarvi utili o forse no, i processori servono sempre in teoria sia per questo o non per altro Ma bando alle ciance, ciancio alle bande come direbbe qualcun altro Vediamo un attimo di che diavolo parliamo oggi e in quale diavoli situazioni ci siamo cacciati Panico e paura ho visto scendere tra le persone nel momento in cui è stata letta la notizia Cioè è stata convista la notizia che i crypto miners brutti e cattivi stanno comprando le CPU per appunto andare a minare Perché a quanto pare è diventato tutto profittevole nel tempo le vibes di Renato che rimangono sempre con noi A questo punto io volevo un attimo verificare sul campo insomma un pochettino quello che succedeva Se c'era un'effettiva, infatti poi è appena uscita una bomba sul canale Telegram delle bombe Ecco perché dovete tenere attivo le notifiche perché come vedete è appena uscito un SSD letteralmente regalato Non so se adesso mi metterà a fuoco, hey Praticamente un NVMe da 512 a 19 euro, mica male, vedete? Il canale delle offerte a cosa serve? Detto questo stavamo parlando appunto di ecco di come farli soldi e non di come spenderli Poi magari potete farli per poi spenderli in queste cose Sì, praticamente insomma, ragazzi parliamoci chiaro Mancano penso 20 giorni all'alving dei Bitcoin Vuol dire che nei prossimi due anni sarete bombardati sicuramente sull'odice e dal mining e sulle criptomonete Tra l'altro con l'ultimo rally di Bitcoin sicuramente avete ricominciato a sentire l'odice su Bitcoin Che tra l'altro ha toccato massimi storici, eccetera eccetera Beh insomma c'è sicuramente fermento intorno all'argomento delle criptomonete Che vi ripeto, vi ho detto più volte, in sé per sé non sono il male in quanto criptomonete È tutto lo schifo che c'è attorno con gente per esempio che promette guadagni stratosferici Questo, quest'altro E allo stesso modo anche per ciò che riguarda l'aspetto più tecnico, ovvero il mining Ci sono delle cose di cui dobbiamo andare a discutere Perché ve lo dico da, posso parlare da miner con esperienza che non è tutt'oro quello che luccica Ovviamente insomma se se ne parla un fondo di verità c'è Però insomma è anche una situazione che va un attimo analizzata Allora la moneta che fa gridare allo scandalo in questo caso si chiama Kubik Kubik che essenzialmente penso utilizzi gli stessi algoritmi che si utilizzano per l'intelligenza artificiale Perché poi praticamente calco a imitation al secondo Quindi credo che faccia qualcosa del genere Nobili scolto, è una cripto insomma Che è così, che può essere minata sia dalle GPU Perché non è che con la finta Ethereum le GPU per minare non possono più essere utilizzate Ci sono una marea di monete che sono ancora minabili con le GPU E Ethereum era solo la più famosa e quella anche che ti faceva guadagnare di più Questo non vuol dire che si smette di guadagnare o di fare Semplicemente che però magari quando c'è il bear market Solitamente tutte le cripto scendono e qui insomma anche andare a minare Non ti dà più quel vantaggio immediato che hai nel momento di bull market Ovvero quando le cripto salgono Essenzialmente lui cerchi di incamerare nel momento in cui poi quelle cripto tornano a salire Anche se solo non hai guadagnato nei mesi precedenti Tu vai a guadagnare insomma gli interessi Cioè vai a guadagnare praticamente in proporzione a quanto sale la moneta insomma Kubik quindi c'è sta moneta che a quanto pare va molto forte sui processori Però prima di buttarmi sul mining di Kubik La prima cosa che ho provato a fare è come feci esattamente proprio tre anni fa credo ormai Ho scaricato Cryptex che voi sapete benissimo che è una cosa che non si fa Semplicemente nel metodo più veloce per mettere al pc e vedere più o meno cosa si riesce a fare E il risultato su Cryptex era diciamo in sé per sé abbastanza direi negativo Su Cryptex tra l'altro non ci stanno tutte le criptomonete E serve essenzialmente soltanto come benchmark Quindi insomma utilizzatelo a... cioè non utilizzatelo appunto Non lo... lasciate perde Cryptex Non è mining quello, quello è schifezza Detto questo comunque insomma su Cryptex tutto il mio pc che ha al momento un 7950X Una 4070 Ti riusciva a generare se non sbaglio 70-80 centesimi al giorno Che se ci mettiamo il costo della corrente Già quello potrebbe farvi capire che comunque insomma forse non ne valeva tanto la pena Perfetto quindi ho deciso di spostarmi direttamente a fare i test su questa nuova moneta Che è Kubik che sembra molto promettente Nel momento in cui abbiamo fatto i test la prima rullata Beh già insomma che fa partire il miner Non vi sto manco a spiegare il tutorial su come fa mining su Kubik Perché veramente tanto è fuori dal mondo... cioè dovete prendere, scaricare, prendere un token ID Ficcarlo su un blocco note, fa partire un file che vi dice che non è sicuro farlo partire Però comunque l'abbiamo testato in realtà non dice nulla di eccezionale Pure perché si trova direttamente su GitHub Quindi insomma c'è un minimo di controllo e tutto è... Vabbè fatto sta che parte finalmente questo miner Io sto col mio bellissimo 7950X e vedo che riesco a fare 80 iterations al secondo Ora, perché 80? Perché letteralmente per far girare il processore al 100% dovrei staccare tutto C'avevo acceso Discord, c'avevo acceso Chrome, c'avevo acceso... non lo so Penso pure League of Legends, c'avevo acceso... quindi 80 poteva andare bene Tecnicamente il 7950X che abbiamo postato tra l'altro in offerta a 478€ Che è un ottimo prezzo per cui il processore è sempre su Telegram E vi ricordo sono i link in descrizione Riusciva a generare quindi circa 2,50$ Al cambio oggi quando è? 2,30€ eccetera al giorno Andando a consumare più o meno 170W Diciamo che a fine della giornata sicuramente ero in guadagno Però andiamo un attimo poi a parlare insomma della situazione in sé per sé Perché non è insomma che quello funziona ok proprio così da solo Allo stesso modo abbiamo fatto altri test Per esempio abbiamo svolto adesso col 5800X Che essenzialmente arriva a creare 40 Iteration al secondo Quindi letteralmente guadagnare la metà di quello che guadagna col 7950X Abbiamo provato anche il 13600K che si ferma pure lui anche a 42-43 Iteration al secondo Quindi più o meno sempre 1,10€ 1,15€ al giorno Abbiamo poi il 7800X 3D che invece fa eccezionalmente forte Perché riesce a generare ben 80 Iteration al secondo Considerando che rispetto al 7950X al 13600K ha meno threads E avendo gli stessi threads del 5800X comunque genera il doppio Il che vuol dire che è un'ottima bella cosa 2,30€ al giorno col 7800X 3D Ora quindi partendo da questo presupposto possiamo vedere che effettivamente Fino a che sia in guadagno sicuramente qualcuno potrebbe acquistarlo Ma attenzione perché il mining CPU è decisamente diverso dal mining di GPU Ok? Numero 1 Mining CPU vuol dire che essenzialmente tu devi mettere Devi metterti a creare un sistema intero per ogni processore Mentre per esempio il mining delle GPU tu puoi utilizzare un sistema per attaccarci anche 8 schede video Il che vuol dire che tu ogni volta che prendi un 7950X ci devi andare a mettere Una scheda madre che non costa poco Delle RAM che comunque non costano poco Un dissipatore che comunque non costa poco Un alimentatore e poi magari non lo so Dai puoi anche farlo partire a chiavetta magari come in sistema operativo Ma teoricamente anche quella va comprata Il che vuol dire che il tuo costo iniziale è essenzialmente Boh non lo so Dico 1000€ ma poco ci manca Se tu entri nell'ottica che vuoi andarci a guadagnare Sì però hai comunque un tempo di rientro veramente alto E devi più che altro sperare che la moneta si alzi A quel punto visto che Per iniziare una nuova rig sono 1000€ E non per esempio come il GPU che prendi una cosa Ce ne schiaffi 5-6 dentro Io ho letteralmente minato coi 7-7-5 per farvi capire Il nostro minerale Penso anche con me ho i 7-7-5 Quindi coi Pentium 3 avrà minato Già questo vi fa capire che comunque insomma Non è che le persone si andranno a sbracciare O a smobilitare Per andare a cercare di fare Quistare una serie di soluzioni Per poi andare comunque posso dire a finire i processori Diciamo che al momento il problema non si pone Certo che se diventa che da 3 dollari al giorno Divendano 6-7 o 8 Allora sì la situazione cambia Ma al momento sinceramente Non me ne farei un problema Più che altro ecco tenete molto sott'occhio quello che succede Perché appunto a breve c'è l'halving di Bitcoin A quel momento in cui c'è l'halving di Bitcoin Il mercato sicuramente va a subire uno scossone E probabilmente verso l'alto Almeno questo è quello che storicamente è successo Quindi più che stare a guardare il fatto dei guadagni Mettere i soldi qua Non ve lo dico sta roba perché non lo so Però ecco diamo un'occhiata alle disponibilità dei componenti Perché nel momento in cui iniziamo a vedere qualcosa di strano Ci accorgiamo che è già troppo tardi Ovviamente a quel punto di vista cerchiamo di darvi Tutte diciamo gli aspetti Tutte le cose del caso Tutte le informazioni Al momento non vedo un problema Nell'immediato periodo Anche perché nel momento dell'halving Ci si mette un pochettino per carburare Almeno 5-6 mesi Quindi insomma Al momento la situazione è sotto controllo Se dovesse cambiare State tranquilli Che vi avvertiremo Ma di certo per i processori Potete stare tranquilli Se volete prendere un 7950X in offerta Siete ben liberi di farlo E fatelo Perché ne vale la pena Perché è un ottimo processore Soprattutto a 470€ A quanto è stato postato su Telegram Quindi non vi fate il problema E per il resto ragazzi Questo è quanto Che altro vi devo dire State tranquilli Non è che tutte le notizie Insomma sono fatte per essere veriti E alcune sono fatte soltanto per andarci a cliccare Detto questo ragazzi Mi raccomando Fatemi sapere voi cosa ne pensate Commentate Condividete E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao